Il dipinto è organizzato in due parti, suddivise da una linea immaginaria che corre lungo la colonna dietro il personaggio con la barba. Tale scelta compositiva è funzionale allo schema iconografico, evidenziando due spazi, uno coperto a sinistra e uno aperto a destra, nei quali si svolgono due scene correlate ma distinte. A sinistra l'episodio della flagellazione di Cristo. I tre personaggi sulla destra costituiscono invece un enigma per la critica, che per lo più li considera esponenti della famiglia dei Montefeltro, signori di Urbino o diplomatici. Le due scene sono unificate dalla prospettiva centrale applicata in modo rigoroso secondo i canoni compositivi del Primo Rinascimento. La costruzione prospettica è evidente nel disegno delle architetture. I lati obliqui degli edifici, degli elementi decorativi e delle piastrelle del pavimento segnano linee di fuga convergenti verso un unico punto al centro della tavola. Tale struttura consente di tracciare un'immagine del reale vicina a quella percepita dall'occhio umano. Le figure sono proporzionate secondo lo schema prospettico dell'intera composizione. I personaggi sulla destra in primo piano appaiono molto più grandi di quelli della scena a sinistra, posti su un piano assai arretrato. Correttamente collocate nella profondità spaziale, le figure sono inoltre costruite con particolare attenzione alla resa dei volumi. Solide, statuarie, di forme quasi geometriche, la loro staticità contribuisce al tono grave e meditato dell'immagine. La flagellazione di Cristo è ambientata in una loggia di stile classico descritta con grande precisione di dettagli. Le colonne e i capitelli corinzi, i freggi sugli architravi delle porte nella parete di fondo, il soffitto alla cunari, sono elementi architettonici tipici dell'arte greca antica, riscoperta nel Rinascimento e riproposta sia nell'architettura sia nelle arti figurative. La luce chiara e trasparente che inonda il dipinto proviene da due fonti diverse. La scena sacra è illuminata da destra, come è facile notare dalle ombre sul corpo di Cristo, mentre le figure in primo piano e le architetture alle loro spalle sono illuminate da sinistra, come appare evidente dalle pieghe della veste del personaggio con la barba. Questa scelta compositiva conferma l'ideale suddivisione del dipinto in due parti, corrispondenti a momenti storici e a realtà diverse, pur correlate allegoricamente. C'è in quest'opera una grande consapevolezza nell'uso dei colori distribuiti secondo calcolati equilibri. L'accostamento di colori contrastanti, come rosso, verde, giallo e blu, conferisce alla parte destra del dipinto un rilievo che avvicina l'immagine allo spettatore, rendendogliela più viva e presente. Le calibrate sfumature di bianco e grigio nell'architettura classica allontanano invece nel tempo la scena della flagellazione, immersa in un'atmosfera sacra.